Arzignano ruba una macchina parcheggiata all'interno di una carrozzeria. Il ladro riesce a impossessarsi delle chiavi dell'auto di cortesia e a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Nella stessa serata la vettura, una Fiat 500, è stata abbandonata a Vicenza in Viale Retegna dove viene ritrovata dalla polizia di stato con la portiera del conducente aperta e la chiave nel cruscotto. La questura ha restituito l'utilitaria al proprietario. Intanto i carabinieri di Arzignano hanno recuperato i filmati dell'impianto di videosorveglianza della carrozzeria con i fotogrammi salienti del furto. È stato così identificato il responsabile che aveva agito con volto scoperto. A quasi un mese dal fatto è stato avvistato dai carabinieri a una fermata dell'autobus. Fermato e accompagnato in caserma è stato denunciato in stato di libertà. Si tratta di un 32enne trevigiano che vive a Montebello Vicentino e che ha proprio carico a precedenti per furti e droga. Grazie.